Grazie a voi, grandissima sorpresa, eccomi con i grandi Rolando Ravello. Facciamo saluto, salutatore, salutatore. Saludiamo tutti i tuoi fanzzi. Quali fanzzi? I tuoi tantissimi fanzzi che ti seguono. Venite, venite, continuate a venire, contribuire a questa cosa, perché riusciamo a fare una cosetta carina. Ok, io ti ringrazio e salutiamo tutti i tuoi. Ciao.